Amici di Mestrino TV Web, siamo in compagnia del nostro amico attivista del Movimento 5 Stelle, il più giovane del gruppo di Padova, che risponde al nome di? Leonardo Fornerra. Leonardo, oggi siamo qui a fare la festa al Movimento 5 Stelle Padova, è una giornata importante. Tu da giovane come la vivi? Io da giovane la vivo come una bella esperienza perché mi dispiace che molti giovani come me non capiscono ancora che la politica non è una cosa che va buttata via ma che va vissuta in prima persona ed è per questo che io come giovane mi sento molto a mio agio anche nel fare queste scelte, anche se ho 20 anni e appunto sono il più giovane della lista. Ascolta, hai le nostre camere a disposizione, lancia un messaggio ai tuoi coetanei e soprattutto ai tanti ragazzi di Padova che hanno bisogno in questo momento di trovare una bussola e orientarsi in questo panorama politico. Allora ragazzi, sono anch'io per lo spritz, però oltre lo spritz bisogna anche interessarsi di politica perché la politica influenza le scelte di tutti i giorni, da partire dal lavoro che probabilmente molti non avranno a causa anche di come è stato gestito il paese fino ad oggi e dalla scuola all'università tutto è gestito dalla politica, quindi se noi non facciamo parte della politica vuol dire che deleghiamo altre persone a fare scelte che magari noi non condividiamo. Ottimo discorso, per essere giovane un buon inizio carriera politica, in bocca al lupo!